Signori, c'era un bambino una volta che era un bambino a prodigio, adesso il prodigio è rimasto, però il bambino è cresciuto. Signori, Toni, tu mi vieno! Una bella voce, un ragazzo bellissimo. Venerdì prossimo, giorno 13, saremo a un esena spettacolo organizzato da lui. Quindi, chi vuole venire? Il ristorante Marasa, piazza Bengasi 208 se non sbaglio. Quindi, chi vuole venire? 25 euro e vi togliete il pensiero. Ok? Ve lo lascio. Un applauso signori, dai! No, non, 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 non. A voi, a la voi? No, non, non. Mi vuole venire? Non ci vuole venire? Non, non si vuole venire. Mi vuole venire? Si può venire da la ventana? Non si vuole venire da la ventana. Non si vuole venire? Non si vuole venire... Si, giù vuole la pura. Grazie. 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 Grazie.